buongiorno a tutti allora 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 dopo aver fatto campionato inglese campionato spagnolo andiamo a fare il campionato italiano quando vedrete questo video saprete già come è andata juventus napoli io non lo so ancora perché sono le 18 10 di sera del venerdì iddi per cui la partita deve ancora iniziare ma andiamo a vedere le gare che si disputeranno domani e per chi le vede il video naturalmente oggi pomeriggio perché il video lo vedrete a partire dalle 10 di sabato allora 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 si parte con verona lazio allora per par condicio se non è non verona aveva battuto la roma quindi per cui per par condicio se tanto mi dà tanto tanto va la gatta all'argo che ci all'ardo che ci lascia lo zampino ragazzi miei ori via rischio 12 della butto lì 12 poi uscirà un bel pareggio come al solito e lo prendo del pulipo atalanta bilan x ci può stare 1 a 1 buttato lì proprio è buttato lì perché dipende molto dall'atalanta se gioca come contro il torino il bilan se la pappa se tirano fuori un po i baroni e come dice un tifoso della bergamasco che che conosco scendono dal piedistallo e si mettono a giocare con un po di cazzino invece di fare come sono bello come sono bravo eccetera eccetera e prendi tre peri dal torino e allora le cose cambiano ma se giocano come ha giocato col torino bolli subire eccetera mi sa che il bilan stra vince quindi io vi dico x però se volete aggiungere un x 2 ci sta tutto è giusto per portare la quota un attimino da libidi da 320 però è un rischio se siete convinti x 2 o 1 x perché comunque l'atalanta è favorita però ripeto se giocano come contro il torino cipi rimerlo inter udinese 1 con toccatina di testi perché è una partita che vi preoccupa ragazzi ma non per la forza dell'udinese che quest'anno purtroppo per me si salva ma con grande 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 fatica ma perché ci sono quei corsi e corsi storici che non mi piacciono molto soprattutto qualora ve l'ho detto non so ancora come finirà juventus napoli ma non vorrei che qualora juventus napoli veda una non vittoria dei bianconeri di un pareggio una vittoria del napoli l'inter non sfrutti come al solito l'occasione per menare le tolle quindi bettoruro perché ragazzi miei non ci si può esibere però attenzione quindi se qualcuno vuole fare la pazzia di mettere un x o addirittura un 2 ma proprio perché vuole buttare via due euro ma se la vala va la gaga vi dico solo che il 2 è da paura no vabbè pensavo pensavo peggio tedevo peggio 10 e 50 mi sembra un 18 invece solo 10 e 50 comunque il 2 di interudinese data 2 a 10 e 50 se qualcuno vuole fare la pazzia però ripeto già mettere leaks sarebbe un bel rischio a 6 e 10 però può capitare proseguiamo con frosinone torino allora il torino stranamente forse anche dopo la partita dal libidile perché diamo anche i meriti al torino della vittoria sull'atalanta partita che ho visto un atalanta è riconoscibile perché al torino ha fatto la sua onesta partita non è che ha fatto una partita della pepina che lo dice bicchia che torino sembrava al real madridol torino è entrato in campo ha fatto la sua onesta partita l'atalanta dormiva allegramente soldo della principessa sul pisello comunque frosinone torino 12 ragazzi perché allora appunto prima la partita delle 12 e 30 che di solito è pazza riella è una partita quella delle 12 e 30 che solitamente regala almeno due gol uno per parte di vivo quindi il frosinone in casa nella brutta bestia e gioca bene i d per cui proviamo l'uno 2 vediamo cosa succede bonza genova 1x salernitana bologna bologna con lecce diciamo che alla fine della fiera risultato era anche giusto per è brutto prendere gol su calcio di rigore per fallo sul portiere che si è buttato in attacco con tutto quello che è successo con la possibile fuori gioco che poi non era fuori gioco allora vai a vedere il fallo sul portiere il fallo sul portiere c'è calcio di rigore al 90 e qualche cosa però alla fine della fiera ripeto il risultato è stato giusto il bologna vorrà rifarsi la salernitana se non fa punti in casa non so dove può farli quindi mi a rischio 12 po folle e vediamo cosa succede perché non sarà facile battere un bologna che se non ero ha perso una partita in tutto il campionato quindi la salernitana e squadra pazza capace di tutto ha ribaltato pure pure la lazio roma fiorentina 1x non penso che la viola andrà vincere a roma però non credo che la roma avrà vita facile con la fiorentina potrebbe anche vincere ma con grande 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 fatica magari come al solito degli ultimi 15 minuti quindi la fiorentina è avvisata che la roma negli ultimi 15 minuti è una sentenza cioè il gol te lo fa quindi deve dovrà stare molto 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 attenta dal settantacinquesimo fino al novantacinquesimo cioè fino a oltre il novantesimo perché anche dei minuti di recupero la roma sfranga quando meno te l'aspetti sfranga ti segna come fa il nostro bassardo interi ormai vi sono sfranga ci sarà dei prossimi video anche il the way di l'ergiana memoria perché continua sta ragazza dire no way the way the way the way the way che bello che bello che bello quindi ogni tanto vi potrebbe scappare anche qualche due ma lasciamo perdere e andiamo avanti quindi roma fiorentina 1x e in poli lecce e ragazzi miei e poli lecce è una partita tra due squadre che lottano per salvarsi il lecce abbastanza in zona tranquilla ma se perde sta partita entra nel vortice anche lui delle squadre che lottano per salvarsi siccome penso che a lecce un pareggio a empoli potrebbe andare anche molto bene dico 1x anche perché non vedo un lecce che diva vincere ai poli poi ovvi se vince mi direte gigi hai visto ha vinto le lecce a empoli cavolo dice ragazzi io la pelata non ho la sfera magica quindi vado di panza cagliari sassuolo il cagliari in casa che ci dò che ci dò che ci dò il sassuolo in trasferta che domica che domica che domica quindi 1x anche se si potrebbe mettere l'1 2 voglio mettere l'1 x dare fiducia al cagliari del buon ranieri bene queste sono i pronostici adesso diamo alla schedina alternativa partendo da verona lazio gol data 1 85 atalanta milan gol data 1 e 66 inter udinese over due e mezzo data 1 e 55 non vado oltre perché non credo che più di tre gol l'inter farà e comunque non credo che usciranno più di tre gol in questa partita a meno che non finisce 3 a 1 o 1 a 3 come successe qualche anno fa perché eravamo sempre sotto natale si misero a fare le canzoncine e questo e quell'altro sfranga lo prendebbe in quel posto con l'udinese però era anche un altro di vese dove era questa proseguiamo con frosinone torino gol dato a 1 80 questa è una partita secondo me da gol poi vedremo bonza genoa anche questa secondo me un'altra partita da gol data 1 85 quindi quota interessante mi sento così salernitana bologna anche questa un bel gol da dato a 1 80 che vi fa libidide roma fiorentina anche questa gol 1 85 si roba fiorentina ragazzi miei 2 a 1 1 a 1 ci sta tutto e in poli lecce qua vado di combo invece perché questa mi sa che sarà un'altra partita in stile e poli sassuolo se non sbaglio che fini 3 a 4 quindi attenzione ecco ti pareva se ci azzeccavo era qua che dovevo andare eccoci qua allora e poli lecce gol piover due e mezzo la peppa così tanto libidide data 2 80 ragazzi miei non sono convinti che questa sia una partita da gol sinceramente un 2 80 al gol piover due e mezzo mi sembra regalato per il poli lecce però io non sono un bookmaker come vi dicevo vado di pazzina vedo la partita e la sensazione mi sento che poi posso sbagliare ci mancherebbe se non fai non sbagli i ragazzi miei concludiamo con cagliari sassuolo e anche qua voglio andare di gol piover sì 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 le due partite del lunedì le mettiamo vediamo via di gol piover come se piovesse però cagliari sassuolo il gol piovere data 1 76 una quota umanissima quindi ci sta fa libidine bene anche il campionato italiano l'abbiamo fatto sono contento sono contento sono felice e adesso faremo il campionato tedesco che mi dà sempre tante 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 gioie e naturalmente ci vediamo alla prossima ciao